come si fa a fare l'uccellino ha imparato maia stiamo andando alla fiera del campo è vero ragazzi ecco mamma che ha portato la mela la mela riusciremo a trovare dov'è questa città del country matti la riusciremo a trovare dov'è la città del country matti non so se riusciremo a trovare dov'è la città del country secondo voi la troviamo la città del country? no non perché ando'è la città del maio noi andiamo bene i canare ando'è la città del noi andiamo sub Jenni